Le attività della confraternita di San Carlo sono oggi principalmente di carattere liturgico e devozionale. La confraternita si riunisce una volta al mese per celebrare la messa comunitaria in soffraggio di tutti i confratelli e consorelli defunte e inoltre solennizza la festa del suo santo patrono il 4 novembre, oltre quella di San Lazzaro Mendicante il lunedì dopo Pentecoste per antica tradizione. Inoltre durante la settimana santa, il mercoledì santo, si rega precessionalmente in cattedrale ad adorare il Santissimo Sacramento e il sabato santo porta in processione il mistero della deposizione di Gesù dalla Croce. Inoltre il lunedì in albis il Corpus Domini, anche qui secondo l'antica tradizione, partecipa in abito confraternale a queste processioni. Accanto alle attività liturgiche vi sono poi quelle di tipo caritativo che consistono principalmente nel soccorso ai più deboli e ai più poveri, anche se dobbiamo dire che oggi essendo molto più limitate le disponibilità della confraternita queste attività rispetto al passato si sono notevolmente ridotte. La confraternita di San Carlo, anche in base alle recenti acquisizioni di carattere documentale ed archivistico, eredita sostanzialmente la tradizione delle corporazioni medievali. Si innesta in particolar modo su una precedente confraternita di battenti. Quindi, come tutte quante le confraternite medievali ed anche nate immediatamente dopo la controriforma, ha una natura sostanzialmente di Pio Sodalizio che soccorre alle esigenze dei suoi associati, in particolar modo attraverso anche prestiti di denaro fatti in occasione, i cosiddetti maritaggi per le ragazze che non avevano la possibilità di avere una dote in occasione del matrimonio e soprattutto anche quello di accompagnare i defunti al cimitero e quindi di organizzare delle solennie segue. La confraternita va detto che in origine era caratterizzata da una regola abbastanza stringente che escludeva l'ammissione di nobili e borghesi. Successivamente invece con il trascorrere del tempo, in particolar modo a metà Settecento, questa regola viene pian piano temperandosi e della confraternita cominciano sostanzialmente ad essere ammissi un poco tutti i principali rappresentanti della città. La chiesa si presenta oggi strutturata su due livelli, una parte inferiore che è quella anticamente dedicata a San Francesco, nella quale si dice che San Francesco stesso abbia soggiornato mentre si trovava a Sessa, e la parte invece superiore che è stata edificata nel momento in cui è stata eretta la confraternita di San Carlo, successivamente al 1615. È interessante notare come nella parte inferiore oggi rimane la traccia degli antichi scolatoi, cioè che rimandano alla sepoltura dei confratelli prima dell'editto di Senglou, prima che venissero istituiti i cimiteri fuori dalle mure urbane. Quindi oggi la chiesa sostanzialmente nel suo duplice livello, diciamo, riassume anche plasticamente la storia della confraternita, quella antica legata al culto di San Francesco e alla presistente confraternita dei battenti, e quella invece superiore legata al culto di San Carlo, che viene eretta successivamente alla costituzione della confraternita. Quando è stato costituito il Comitato per la celebrazione del quarto centenario, si è pensato ad un intero anno giubilare, in modo da prevedere manifestazioni, ciascuna delle quali richiami una tappa della storia della confraternita. Quindi, proprio in relazione alle sue antiche tradizioni, si è pensato, dopo questa solenne apertura dell'anno giubilare, di prevedere una solenne via crucis durante il periodo quaresimale, alla quale potranno partecipare tutte quante le confraternita dei diocesani, raccogliendo l'invito di Sua Eccellenza il Vescovo, che ci ha stimolato a vivere spirito di comunione questo giubileo. L'altra importante tappa, invece di carattere storico, si provvederà ad effettuare una pubblicazione che raccoglie tutte quante le fonti documentali storiche sulla evoluzione che ha avuto la confraternita dalla sua fondazione ad oggi. Inoltre, in occasione della festività di San Lazzaro Mendicante, che ha avuto sempre un notevole rilievo nella storia della confraternita, si sta pensando a promuovere un'iniziativa di solidarietà in favore dei più deboli e bisognosi, ricordando proprio che questa festività è nata ed è stata pensata sulla base del monito che ci viene dalla parabola evangelica di soccorrere i più deboli, di non rimanere indifferenti alle esigenze delle povertà emergenti che oggi si fanno sempre più profonde. L'esempio del santo, si può fare adesso giorno per giorno, è un esempio che ha portato frutti. E i frutti più visibili posso vedere oggi anche qui. E questo è un bel dono. Anche per me vuol dire che una confraternità di San Carlo ha 400 anni di vita. Vuol dire che c'è vita sana, vita buona e frutti buoni. La presenza di Monsignor Georg ci riempie l'animo di gioia, soprattutto dimostra che la nostra confraternita non è un fossile storico. Non sopravvive a se stessa, ma è ancora un organismo vivo che opera nell'ambito della Chiesa universale. E l'attenzione che ci viene riservata da colui che custode della tomba dell'Apostolo Pietro e vive accanto al Sommo Pontefice ci dà la misura di come ciascuno di noi è chiamato a vivere l'esperienza cristiana nella confraternita come un'occasione privilegiata per poter attraverso un'antica tradizione far vivere quelli che sono state le motivazioni in base alle quali la confraternita è stata costituita. Non dobbiamo dimenticare che oggi la nostra confraternita è formata in gran parte anche da giovani e ad altri giovani ci chiedono di aderire. Questo dimostra la vivacità e dimostra la modernità di un organismo confraternale che Monsignor Georg con la sua presenza ha inteso valorizzare. Se puoi confalire con la più semplice disponibilità che vi sia ancora un luogo in cui poter trovare esplicita amicizia e comunione spirituale che alimentano rivigorendolo il suo delicato compito ritenga questa casa sessana casa sua. Grazie di cuore eccellenza e il Signore per l'intercessione di San Carlo la protegga e l'alluminio.